Il Settecento sull'Altopiano, tra l'1 e il 2 luglio, hanno partecipato alla nona edizione della Straf Expedition Trail di corsa off-road, ispirato nel nome dell'azione dell'esercito austro-ungarico nella Grande Guerra. Il percorso si è snodato tra i resti di trincee e costruzioni risalenti agli anni venti, tra Passo Tezzena e Asiago. Alle porte del suo decennale la Straf Expedition ha riempito i sentieri di runner festanti, sudati ma felici di affrontare i tre percorsi della competizione su uno sfondo fuori dal comune. È stato sabato il giorno in cui si sono svolte le due gare più lunghe, l'Extreme 55 km, la cui vittoria è stata conquistata da Simone Vigolo del Runners Team Zanè e il percorso medio di 37 km, vinto da Alberto Pietro Pan del Turona Team Chiampese. È invece Giulia Zaltrona dei Mara Runners la prima fra le donne. Il giorno seguente si è svolta la prova classic di 21 km, vinta da Michele Meridio del Vicenza Marathon, va invece a Marta Fabris del Team Kilometri Sport la vittoria nella categoria femminile. Si dicono estremamente soddisfatti i responsabili dell'ASD Sportiva Sette Comuni, organizzatori dell'evento in collaborazione con le sezioni alpini dell'Altopiano di Asiago che sono già proiettati verso la decima edizione del prossimo anno.